Sistema BW per una vita più sicura Bentel Security, azienda leader da oltre 30 anni nei sistemi di sicurezza antifurto, presenta la nuova famiglia di sistemi di antifurto via radio BW con tecnologia video e in multifrequenza, di ultima generazione. Impenetrabile, il sistema ha varie frequenze di trasmissione, in più ciascun canale manda il segnale alla centrale circa 64 volte al secondo, rendendo il sistema altamente affidabile e soprattutto impenetrabile da interferenze o disturbi radio. Flessibile, il sistema BW trasmette il suo segnale avvalendosi del ripetitore fino a 2000 metri all'aperto e permette quindi la realizzazione di impianti per edifici molto ampi o sviluppati su più piani. Sicuro, trasmissione con algoritmo criptato e proprietario. Affidabile, il sistema bidirezionale permette a tutte le periferiche di dialogare con la centrale consentendone il costante controllo da parte della centrale stessa. Ecosostenibile, il bassissimo consumo energetico di tutti i dispositivi allunga la vita delle batterie addirittura fino a 8 anni, contribuendo così alla riduzione dell'inquinamento ambientale. Video e telesorvegliati, gli impianti possono inoltre essere interfacciati con istituti di sorveglianza per un pronto intervento in caso di rapina, incendio o altri pericoli, oltre gestirne le funzioni e programmazione tecnica. Le immagini video per la verifica degli allarmi potranno essere ricevute gratuitamente dagli utenti via e-mail grazie al server cloud di Bentel. Il sistema radio BW offre una gamma completa di apparecchiature in grado di soddisfare tutte le richieste del mercato. La tecnologia radio BW di Bentel si sviluppa su due centrali BW30 e BW64 che, proposte in quattro diversi kit, permettono la realizzazione di ogni tipo di sistema di sicurezza per ambienti residenziali, commerciali ed industriali. Le soluzioni e le caratteristiche performanti del sistema radio BW rendono semplice l'installazione degli impianti in qualsiasi situazione. Sistema BW per una vita più sicura.